a parte la spazzatura... a parte la spazzatura... a parte la spazzatura... a parte la spazzatura... con il vento... Grazie a tutti. 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 Ti presterò un po' di rivetti. Noi rivetti, noi rivetti. Come noi rivetti? Un altro parafango della scorpa, da metà sotto. Non so se... Non so se l'avete visto. Allora te lo vendi a metà sotto? Tu non lo vendi? Allora, te glielo vendi al Pietro. Se tu lo vedi al Pietro, se tu quello rotto me lo dà a me e anche io poi lo ricido. Te la teni insieme. Giusto Pietro? Cosa? L'Ale ti dà il suo che ce l'ha a casa due. Tu il tuo rotto me lo dai a me e io lo recupero per la mia attesa. Ma non dite che gli ho detto così, se no mi sputtano. Ma non è... Io non paravano. Mi è andata. Mi è andata. Mi è andata. Mi è andata. Mi è andata.